Buongiorno, vi saluto, io sono Gaia e lei è Martina. Oggi vi spiegheremo che la vita del cane è bellissima, perché immaginate se fosse un cane, perché potete fare alcune cose che sono bellissime, tipo giocare, essere coccolati, poi non ci si deve trattare molto male con il cane, bene si deve trattare, perché alcune persone lo trattano davvero male il cane. Ciao, seguiteci su www.alfiniteidoc.cao, vi saluto da questa sera.